E' stato bellissimo ricevere il premio stasera, questo riconoscimento dopo tutti questi sacrifici. Festival Pub Italia, uno dei più grandi festival italiani rigorosamente live. Quest'anno compie 10 anni e ha pensato bene di festeggiarli in teatro con una diretta televisiva nazionale di 4 giorni. L'edizione 2014 è già partita, infatti sono state già aperte le iscrizioni per le band, per i cantautori e anche per le formazioni in duo. Ma le novità di quest'anno non si fermano qui. Le novità sono che è stata aggiunta una categoria di interpreti e non solo. Le band che finiranno proprio alla finale del Festival Pub Italia, durante i 4 giorni in una serata speciale, si esibiranno insieme ad un big. E chissà che poi non possa nascere una collaborazione, che avrà chiaramente un seguito. Se volete saperne di più, potete visitare il sito festivalfabitalia.org o punto com. Presidente di giuria Antonio Vandoni, direttore artistico musicale di Radio Italia e Video Italia. Premi per il valore di 40.000 euro, con contratti discografici, promozione televisiva e radiofonica. Selezioni e casting del Festival Pub Italia in tutta Italia. Ricordate che i grandi nomi passano dal Festival Pub Italia. Pietra Montecorvino, Francesco Baccini, Alexia, Tony Esposito, Alberto Fortis, Laura Bono, Gio di Tonno, Igi Alis, Gatto Panceri e tantissimi altri artisti. Vediamo il festival insieme. A volte la musica è dentro e la puoi trovare dei piccoli suoni. Credo che una delle peculiarità di una manifestazione come il Festival Pub è che è interamente suonata. C'è ritornare sul palco a suonare la musica. Soprattutto questa è la cosa più importante. Il live, dare la possibilità poi ai ragazzi anche di uscire dal contesto di pub dove si mantiene quell'atmosfera, però con un pubblico, con un'apertura maggiore. Beh, è il demonio che si è incarnato in lei per strapparmi gli occhi via... Queste cose come i pub sono quelle cose che poi ti aiutano a affrontare anche degli stati a volte. Vivere il Festival Pub Italia è un'esperienza veramente che ti arricchisce professionalmente considerando che la musica è vera. Si vede che la gente comunque è professionale. è chi ha organizzato tutto, l'ha organizzato con massima professionalità e quindi noi siamo veramente onorati. E' un vero piacere salire su questo palco del Festival Pub, un'emozione unica. E' davvero una grande emozione perché è un palco bellissimo, la gente è fantastica, noi la conosciamo perché sono le persone che vengono a sentirci nelle nostre serate, nelle nostre tappe. E' davvero... Siamo a casa e ci sentiamo molto molto bene. In realtà è la primissima volta che noi partecipiamo al Festival così bello. Anche mi sembra molto importante perché vedo i ragazzi molto motivati quando sono sul palco proprio convinti e ognuno di loro porta quello che fa parte del loro background. e la comunità storica legge e la comunità storia Penso che il Festival Pub conti moltissimo, cioè sia veramente un angolo di svolta. Io me lo auguro per loro, per quelli che vogliono fare il mestiere della musica. Noi Danza Ancora si chiama la canzone in gara. Da Piazza Armerina, provincia Viena. Noi Stasi in Tristura L'impressione che hai avuto arrivando a Milazzo, questa straordinaria location, salia su questo palco, questo lungomare bellissimo. Sicuramente un'impressione positivissima, solare, stiva, un'organizzazione ottima, perché c'è veramente un bellissimo palco, una bellissima struttura, tutto nei minimi dettagli, ottimo. Ho la fortuna di suonare con delle persone che sono in gamba, capaci, intelligenti, forti in quello che fanno. Per cui fare queste cose, indipendentemente poi dal prodotto in sé, è stimolante. Ero piatto come sempre al vertice Viva la Pappalenza Faccio il manzo tutto il giorno Impasto il pane e poi lo inforno Eravamo evidentemente emozionati Evidentemente emozionati, però insomma ci siamo divertiti Incensurabili, cercate la loro musica, avvicinatevi alla nuova musica campana in questo caso e credetesi la qualità c'è Che stress che caldo e poi pensieri non riesco più ad averci a che fare Penso ma chi me lo fa fare Festival Pub Italia Un festival rigorosamente live Che ha preso negli anni il giusto posto nel panorama della musica nazionale Franco Arcoraci fa autore di questo festival alternativo Che ha già registrato negli anni un crescendo di partecipazioni di giovani band e cantautori Stiamo parlando di una potentissima macchina da guerra Che durante l'anno seleziona i migliori gruppi d'Italia Per poi offrire loro un importante spazio live Nei tre giorni della finale in un grandioso palcoscenico Pub Italia nasce con il preciso intento di presentare molti artisti per lo più sconosciuti al grande pubblico Affiancandoli con delle emozionanti jam session agli artisti già noti Musica libera Musica libera Musica libera Musica libera Musica libera